Cosa ti porta qui? Studio, al London College of Fashion. La stanza è al piano superiore. È perfetta, la adoro. Se potessi vivere in qualsiasi posto e tempo, vivrei qui, a Londra. Negli anni 60. Ieri sera ho visto qualcosa nei miei sogni. C'era una ragazza. E lei chi? Sono Sandy. Ho questa specie di dono. Vedo persone, luoghi, cose che altri non vedono. Le persone non si avvicinano così tanto ai propri sogni. Ma non sono solo sogni. Jack, io non voglio questo. Pensi di andare via così secondo te? Sono davvero accaduti. Che cosa hai visto? Tu credi nei fantasmi? Voglio denunciare un omicidio. È stata testimone di un omicidio ieri sera, ma pensa che sia stata una visione del passato. Il tizio che l'ha uccisa è ancora in circolazione. Devo fermarlo. Dove vai? Io so che cosa ho fatto. Ho fatto tante cose. Dovrai essere più specifica, tesoro. Non puoi salvarmi! Sandy! No! 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 No No! Grazie a tutti.